Professionalità e cortesia, tutto questo lo puoi trovare da C.R.E. di Siani Giuseppe, l'officina di utensili più vicina a te. A vetri sul mare, l'amministrazione comunale dichiara guerra alla diffusione indiscriminata di suoni all'aperto ed in orario notturni. Con l'ordinanza numero 64, firmata dal primo cittadino Giovanni De Simone, infatti è stato disposto il divieto di utilizzo all'aperto di impianti di diffusione, altoparlanti, avviatori acustici e altri sorgenti sonore, a qualunque titolo su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei mezzi di pronto soccorso, pronto intervento e degli organi di polizia. Una stretta che interesserà anche chi trasmette musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, consentita fino alle 24, con l'obbligo di ridurre significativamente il volume già a partire dalle 23. Le attività di diffusione musicale, in ogni caso, dovranno svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dar luogo ad emissioni sonore avvertibili all'esterno. Obiettivo del provvedimento, che non è stato preso bene dai gestori dei pubblici esercizi vietresi, che già hanno fatto sentire il loro malcontento, è quello di migliorare l'offerta turistica del territorio. Il comune di Vietri sul mare, si legge nell'ordinanza, persegue finalità indirizzate a garantire un divertimento sano ed appagante, superando la cultura dello sballo ad ogni costo, elemento che provoca riverberi d'immagine nelle località balneari con il rischio di determinare fenomeni pericolosi per la sicurezza urbana e per la pubblica incolumità.